io ero di milano 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 io sono di mia io sono periferica e periferia sono sandonato milanese 20 97 chi dov'è l'upulus può essere sì 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 l'ho già fatto a novembre può essere c'ero pure io può essere può essere giro spesso queste zone sì 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 no comunque sì faccio cioè sono di milano su però sono qua da un po' di mesi ormai è meglio bologna no perché bologna a livello di ambiente proprio più più capi cioè qua sono tutti cioè vedi sono tutti un po' dispersi nei loro pensieri tutti un po' ubriachi drogati cioè capito sono tutti ubriachi loro è questo sono in diretta scusami dai veramente sì no vabbè ciao ciao cristian molta gente c'è non ci credo dai ma come ti chiami gabriel piacere piacere il cognome no col tuo nome d'arte e il gabron e il gabron e il gabron e il il gabron e il gabron e il gabbio il gabbione il gabbiano no non ti chiami il gabbiano lo so io perché ti conosco il gabbrone il gabbrone non sono di bologna non sono di milano il gabbrone il gabbrone da bologna a fare pitch sì per fare twitch sì 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 per fare un video ha detto quando cazzo lo esce le metti tutte a 90 stima no ragazzo no stiamo scherzando ma non ci sono tipo delle parole bannate ma infatti questo ragazzo lo banneremo adesso dai fuori dal cazzo sì no fuori dal cazzo no ma le persone che non rispettano le linee guida vengono bannate no infatti dal mio team di moderazione è importante la regola e la correttezza è prima di tutto parli di stai 24 ore su 24 sono in maratone adesso da un mese e mezzo sì loro mi pagano loro mi pagano e 24 ore tutti i giorni praticamente io sono in maratona praticamente la gente paga ogni ogni totto donation paga e aumenta il tempo e aumenta il tempo in cui io devo rimanere live ok tipo adesso un euro io rimango altri tre minuti in live e c'è un counter dimostra alle girls che siamo una chat pulita non capiscono un cazzo sti qua no 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 se leggete simox ha scritto che cafoni gab dimostra alle girls che siamo una chat pulita grazie bravo bravo simo sei l'esempio di tutti noi bravo però sì e finché continuano a donarmi devo rimanere in live cioè io adesso c'ho ancora 111 ore da finire mi instagram tipa sinistra la ragazza alla destra di mary voglio l'instagram tutti i fan di julietta veramente julietta non far vedere a non marito no no non facciamo vedere un cazzo ok ok meno male ragazza no perché sono pericolosi le persone qua no ma c'è mancherebbe altro ma quante ce ne sono in live immagino sono 1800 persone porca troia minchia posso farti una domanda ma tu non dormi? io dormo ah dormi in diretta e quante persone hai? julietta sono il tuo romeo ma quando dormo in diretta magari ci sono 400 persone che guardano lì che dormo cioè rimangono lì con l'account aperto che mi guardano poi magari qualcuno se posso fare una domanda a quelle persone che cazzo perché? ma non è che mi guardano mi rimangono lì con l'account aperto e per farmi per sostenermi l'alta media vai dai 17 dai 16 ai 15 16 posso dire che julietta ti amano non più però la telecamera ti adora massimo viene 40 e tu puoi vedere tutti i dati? no non tutti però quelli che donano specialmente sono persone adulte sono persone che lavorano da quando lo fai? ogni giorno da quando? da due anni perché mi hanno consigliato degli amici io facevo video sul web ha senso facevo video quindi tu hai iniziato che avevi già dei fatti facevo video pazzi dove facevo degli stunt degli stunt tipo io che mi buttavo dal secondo piano con la corda oppure io che mi buttavo in un mare di ortiche è molto più comodo dormire e riprendere è molto più comodo sì 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 ragazze non credetelo è un fallito il give ho sentito che non è vero non sono un fallito non è una russa con il step tu non farò molto più comodo dormire salve signor Gabriele è il team di Twitch che le parla volevamo comunicarle che il suo impegno e il suo lavoro ha contribuito molto al nostro fatturato e per questo abbiamo deciso di lasciargli un contributo da 10.000 euro che le verrà accreditato a fine mese insieme al suo stipendio buon proseguimento oh Dio ma che cazzo è no allora Gabriele 15% Gabriele allora ascolta ascolta Giulietta ma dai una somma I'm in 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 10k vabbè minchia era ora era ora era ora che mi è rimasta la tredicesima cazzo quanto hai preso? eh 10.000 eh 10.000 in CIL euro in Cile grazie alla nostra fantastica conversazione Mari vabbè Gabriele mi sembra un po' una presa per il culo posso vedere che dicono? infatti lo è mi sembra un po' una presa per il culo infatti lo è sì 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 lo traccio in Dino ragazzi sì 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 mi vedo una sigaretta però non ci vedo vabbè rimasta l'ultima ridono di base guarda avevo 2.000 euro di Twitch ecco tieni tieni no io penso io so fare un ballo io ho per esempio io sono stato un grande espateatore di un ballo americano tieni questi 1.000 euro Gab ragazzi potete mandarmi un piccolo balletto da manda fare sì ma cos'è il coso del 73 eh se me lo mandano ve lo faccio vedere chat vi potete mandare un 7.3 dance 7.3 dance no allora che cosa dire no ragazzi no il contenuto che ci piace no scusate c'hai ragione ragazzi è rossa no è rossa non ci vedi in realtà guarda domani ci viene oh eccolo scusate tenetemi vai fammi dire tenetemi questo tenetemi questo che cazzo è vai dai dai ballare grande bravo 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 grazie bravo bravo come si gira qua ti ringrazio c'era anche un bel focola ma tanto voi siete vaccinate ragazze no vai 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 7.3 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 6.3 9.3 7.4 7.3 noi le abbiamo conosciute stasera ok 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 i migliori 20 euro spesi nella vita bravo complimenti 20 euro ben spesi è facendogli ballare hai fatto palestra hai guadagnato diverse cose mia ma con i polmoni che ho io tutti grigi non c'ho bisogno io mi alleno sempre tanto ogni giorno in stream che è che è bene? oh ragazzi comunque vi saluto è stato un piacere vi lascio tranquille buona serata ciao un bacio ciao ci vediamo presto ciao 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 cucciole con i capelli rossi l'avrei scopata can I say can I say hi to Fede Juh? hi Fede Juh hi Fede Juh you are the best promoter in the town best 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 promoter in the town yes man